se dovessi scegliere un singolo etf per diversificare il portafoglio o per dedicarci una grande porzione dei tuoi investimenti quali sceglieresti oggi ti voglio dare le mie quattro alternative che non sono ovviamente come sempre il mantra assoluto ma che ogni investitore potrebbe potrebbe valutare interessanti da approfondive cominciamo però subito dopo la sigla ciao a tutti e bentonati sul canale come sempre io sono pasquale questo è risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto oggi come anticipavo dalla brevissima introduzione del video andiamo a vedere se esistano degli etf che possono essere considerati come da tenere per sempre nel proprio portafoglio senza guardare se siano ad accumulazione distribuzione america e europa so investire sulle bombe dei ci siamo capiti solo etf forever sembra il titolo di un manga in realtà un manga giapponese etf forever oggi ti presento le mie scelte per le quali ti andrò a lasciare come sempre tutti gli isini qui sotto nella descrizione senza preamboli alcuno cominciamo ed eccoci alla carrellata dei quattro etf che secondo me potrebbero stare nel mio portafoglio per sempre uno solo anche e partiamo dal più classico quello che quasi tutti i papà hanno nel portafoglio dei propri figli magari facendo un piano di accumulo l'iShare Core World che va a replicare semplicemente l'indice delle MSCI World dei titoli azionali dei 23 paesi più sviluppati del mondo andiamo a vedere qualche dato velocemente poi come sempre lascio per tutti e quattro etf l'iSyn e il ticker nella descrizione qui sotto ma prima di tutto andiamo a vedere che ha un ter bassissimo 0,20 per cento su base anno l'asset under management sono 38 mila milioni quasi 39 mila milioni di euro fisica con campionamento ottimizzato e ovviamente è un etf molto vecchio uno dei porse dei primi nel 2009 andiamo sul sito dell'emittente giusto per avere qualche informazione in più capiamo che va a replicare appunto quelli che sono i mercati mondiali i 23 paesi più sviluppati e andiamo a vedere che da dei rendimenti annualizzati del 10 per cento e mezzo più o meno su base annua che in linea col benchmark di riferimento il lancio nel fondo come vediamo è nel 2009 ha un utilizzo dei rendimenti ad accumulazione e viene ribilanciato in maniera trimestrale andiamo a vedere giusto quelli che sono le holdings principali del portafoglio ma insomma le sappiamo tutti perché sono le società più capitalizzate al mondo apple in prima posizione microsoft amazon alphabet con le sue due classi a e c poi abbiamo tesla nvidia meta platform x facebook jp morgan e united health e questo secondo me è uno di quei etf che si va sempre sul sicuro tra virgolette perché comunque viene ribilanciato ogni tre mesi se un'azienda ad alta capitalizzazione scende semplicemente viene aggiunta a quella nuova il secondo invece anche questo molto conosciuto però è un po più settorializzato perché è l'invesco iqqq semplicemente va a replicare il nasdaq 100 che sono la selezione dei 100 titoli azionari tra i migliori non finanziari che sono quotati sul segmento della borsa di nasdaq ha un ter del 0 30 per cento per cui ancora sostenibile 4 mila milioni di euro di asset under management in questo caso la erpica fisica è totale per cui vengono tutti i 100 titoli andati a copiare questo è uno dei più vecchi addirittura nel 2002 è stato creato a una distribuzione degli utili che viene fatta trimestralmente andiamo sul sito dell'emittente che è l'invesco giusto per andare a vedere alcune altre informazioni i componenti dell'indice principale andiamo a vedere che ovviamente essendo il nasdaq 100 quasi un 51 per cento sono information technology il quasi un 18 per cento in communication i consumi discrezionali un 16 healthcare quasi un 6 e così via con una esposizione che per quasi il 98 per cento 97 e mezzo negli stati d'america e poi cina che saranno le varie alibaba e così via e netherland che presumo sia asml che sono quotate come sapete sull'indice nasdaq se andiamo a vedere anche quanto quali sono le aziende i primi 10 titoli quotati abbiamo come anche in questo caso apple microsoft amazon tesla nvidia le due alfabet poi abbiamo facebook meta platform broadcom e poi sisco systems terzo etf mio preferito quello che praticamente utilizzo per il piano di accumulo di mio figlio l'i share hedge world momentum factor che va semplicemente ad applicare sì i titoli dei 23 paesi più sviluppati in tutto il mondo che però hanno in quel momento un elevato movimento di momentum per cui quelle aziende che sono in fase di crescita esponenziale un indice che va a registrare le aziende che hanno degli incrementi di prezzo molto particolari negli ultimi 6 12 mesi in questo caso ter anche in linea un 0 30 per cento con una dimensione del fondo di circa 2 miliardi 2 mila milioni di euro fisica con campionamento ottimizzato e la replica e non ha copertura valutaria anche in questo caso la politica di distribuzione non c'è perché è tutto ad accumulazione andiamo sul sito della share per andare a vedere qualche informazione in più sulle scheda di questo prodotto se andiamo a vedere prima di tutto i rendimenti andiamo a vedere che hanno analizzato dal lancio circa un 13 per cento nel punto 2 quasi di rendimento su base anno come dicevamo prima è un fondo ad accumulazione la sua frequenza di ribilanciamento per cui tutto quello che è ribilanciare le azioni che hanno il momento viene fatto in maniera semestrale e appunto la struttura del prodotto è fisico andiamo a vedere quali sono le holding principali anche qui immaginiamo di sapere già quali siano apple microsoft e nvidia le due google asml holding che è come sapete abbiamo parlato prima che è un'azienda di semiconduttori con sede nei paesi bassi jp morgan chase bank of america e novo nordisk in ogni caso aziende un po diverse da quelle di prima però come si può notare sono tutte aziende che hanno un elevato momentum e in tutti e tre etf che abbiamo visto fino adesso abbiamo nelle prime 4 5 posizioni sempre le stesse aziende nell'ultimo etf invece secondo me non troveremo queste posizioni perché l'ultimo etf è sempre relativo all'indice americano ma in questo caso l'S&P 500 ma in questo caso va a replicare sì le grandi società statunitensi però quelle che hanno un basso indice di beta per cui una bassa volatilità e infatti è lo spider S&P 500 low volatility in questo caso i libri replica i 500 titoli dello standard pool 500 ma solo quelli che hanno una bassa volatilità la replicazione fisica dell'indice totale la dimensione del fondo è piuttosto media diciamo sono 148 milioni di euro è una politica dei dividendi che ad accumulazione è un ter che fra i quattro che abbiamo visto oggi è quello più alto un 0 35 per cento andiamo sul sito della spider dell'emittente e andiamo a vedere le performance del fondo che su base annualizzata stanno dando dalla data del lancio o più o meno un 11,3 per cento di rendimento anno niente male per un low volatility considerato che lo scopo dell'indice è quello di fare dei profitti ma mantenere una bassa volatilità dell'indice se andiamo a parlare invece di posizioni all'interno di questo indice infatti come possiamo vedere è un indice un po più diversificato essendo aziende dello standard pool 500 e fra le prime troviamo coca cola pepsico procter and gamble archery company verizon johnson colgate palmolive mcdonald southern company e mondeles international aziende che fino ad ora non abbiamo visto fra le prime dieci posizioni dei tre etf che abbiamo visto finora sicuramente un etf un po più adatto per esempio a un investitore quale sono io che ha sì interesse di fare una performance annuale piuttosto importante ma allo stesso tempo non vuole morire di infarto fra un giorno e l'altro specialmente in periodi come questo in cui ci sono delle forti tensioni in campo internazionale bene adesso basta vedere grafici o immagini di etf andiamo al mio brutto faccione ritorniamo allo schermo bene spero che questa carrellata di etf sia stato di tuo interesse e che possa averti dato degli spunti di approfondimento e valutazione come detto all'inizio sono etf che io aggiungerei con molta piacere al mio portafoglio ma magari che non tutti aggiungerebbero le scelte come sempre in questo ambito sono prettamente ponderate su specifiche strategie personali che non è detto abbraccino ogni tipo di investitore chiedo però di aver coccolato un'ampia gamma di persone con queste quattro alternative ovviamente non bisogna cadere come sempre nel sanello che come si investe in etf allora è semplice e che basta metterli tanto sono tutti i panieri diversificati come ogni volta che faccio un video su etf vi chiedo di studiare sempre per bene il sito dell'emittente per capire cosa andiamo a comprare con che strategia con che gestione con che tipo di replica con che grandezza di fondo di asset under management con costi di terra e se ovviamente le strategie alla fine fanno al caso vostro fammi sapere cosa ne pensi nella sezione commenti qui sotto e comunque dammi i tuoi spunti di riflessione perché io ti ho dato i miei ma aspetti i tuoi da condividere con tutta la community se poi il contenuto è stato di tuo gradimento ti chiedo come sempre la costesia di farmelo sapere con un bel pollicione in su questo qui guarda ho disegnato anche bene ah no è vero per l'algoritmo di youtube ma anche per fare capire a me che i miei contenuti sono di tuo interesse se poi si nuovo sul canale come sempre e non vuoi perderti nessun contenuto successivo ti invito a iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessuna pubblicazione successiva anche per oggi è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video ciao